Eccoci. Allora, inizio a presentarvi il corso, vi ho già mandato il link con la videoregistrazione dell'introduzione, quindi l'idea per oggi è quella di scorrere velocemente queste slide riepilogando i punti più importanti e poi iniziare a fare un'introduzione a quella che è la visualizzazione. Per il futuro l'idea è quella di darvi in anticipo le video lezioni e poi discutere durante le ore effettivamente di lezione. Quindi l'idea è di dividere il lavoro in tre fasi. Una prima, anteriore alle lezioni, in cui abbiamo la condivisione e poi un durante le lezioni, durante effettivamente gli orari che sono a calendario e poi in tutti gli altri momenti. Quindi prima delle lezioni ci sarà la pubblicazione. Durante, quindi durante gli orari ufficiali, come oggi, ci sarà un ripilogo di contenuti, domande, chiarimenti e quant'altro, e eventuali discussioni, magari vi darò qualche spunto, qualche esercizio o svolto assieme oppure da svolgere con un po' di feedback. E poi in tutti gli altri momenti potrete avere una modalità di interazione, diciamo continua, anche se non in tempo reale, come può esserci adesso. Vi invito ovviamente a scrivere sulla chat domande varie, quindi io la tengo sott'occhio e se c'è qualcosa cerco di rispondere direttamente al volo. L'orario è questo, l'abbiamo già visto. Quali sono gli strumenti? Allora, la virtual classroom del Politecnico per il momento non la utilizziamo perché io ho avuto un'altra lezione questa mattina e non funzionava praticamente nulla per un lungo periodo. Qui mi pare che, almeno per tutti quelli collegati, non ci siano grossi problemi, e quindi spero che il tutto funzioni egregiamente. Stamattina ho usato lo stesso strumento anche per un altro corso e non ho avuto particolari problemi. Quindi utilizzeremo per il momento Zoom in alternativa, se poi tornerà a funzionare correttamente la virtual classroom del Politecnico utilizzeremo quella che è comunque integrata nel portale. L'altro strumento che utilizziamo per le interazioni continue, ma durante gli altri periodi, è Slack. Il link che vedete è quello che c'è anche sulla pagina del corso e che vi invito a utilizzare per registrarvi in modo da avere una interazione continua. Ovviamente noi, se io che i miei collaboratori seguiremo queste chat, non aspettate di una risposta in tempo reale, però cerchiamo di leggere e dare le risposte a tutti. Non scrivete direttamente in privato, a meno che non sia una cosa veramente privata, cercate di scriverlo sui canali, quindi c'è un canale generale che è quello in cui si tratta di scrivere tutte le informazioni relative al corso, in modo che se avete un dubbio e a cui noi rispondiamo, la risposta venga poi vista da tutti e quindi possa essere utile a tutti. Dove trovate tutte le informazioni? Su questo sito. Tendenzialmente non userò il portale della didattica per il materiale, ma metterò tutto qui su questa pagina. Il vantaggio è che è tendenzialmente più stabile, non richiede alcun login e quindi potete tranquillamente accedere in qualunque momento, anche quando il portale non risponde. Troverete ovviamente tutte le informazioni, aggiornamenti, il materiale, le slide come quelle che stiamo utilizzando e quant'altro, e anche copie delle video lezioni. Oltre a mettere su YouTube, le metterò anche su questa pagina del corso, in modo che siano più facilmente scaricabili per chi vuole scaricare le lezioni per guardarsene, diciamo, offline, senza dover essere collegati a YouTube. Gli obiettivi li abbiamo visti. Inizieremo a utilizzare strumenti molto semplici, quindi fogli elettronici, Excel essenzialmente, ma potete usare anche altri strumenti. Come browser vi raccomando uno di quei tre. Explorer spesso dà dei problemi, quindi fate attenzione. E poi c'è anche WebStorm, che è lo strumento che utilizzeremo poi più avanti nel corso per andare a scrivere pagine HTML e scrivere codice JavaScript. Avremo lezioni, inizialmente più concentrate, per darvi tutti i concetti di base, e poi più diradate, e anche attività pratiche. Probabilmente non laboratori, perché se non si risolve la questione del coronavirus, probabilmente svolgeremo tutto il semestre con didattica a distanza. Le difficoltà delle attività di laboratorio saranno incrementali, quindi man mano più difficili, e soprattutto andranno a utilizzare tanti concetti che abbiamo visto in precedenza. Il calendario è questo, ma in questo momento non ci interessa più di tanto. L'esame dovrebbe essere fatto in laboratorio, al calcolatore, l'idea è di partire da un caso di studio andando a discuterlo, trovando i problemi, e poi andando a riprogettarlo, utilizzando le tecniche che vedremo durante questo corso. Solta questo ci sono delle domande a scelta libera. Volendo c'è anche una tesina, ma direi che ne riparliamo qui più avanti, l'idea è di concordare un tema per la tesina entro la fine del corso, in modo da svolgerlo indicativamente entro la sessione di settembre. Un po' di letture consigliate, però in questo momento ci interessano relativamente poco. A questo punto vi chiederei se ci sono domande o altro, in modo che possiamo rispondere sulle questioni organizzative e generali del corso. Il secondo pacco di slide non è scaricabile, benissimo, cerchiamo di risolverlo direttamente al volo. Quindi... Perfetto. All'esame si possono portare appunti e slide personali? Indicativamente no, perché c'è la parte di domande teoriche, quindi quelle risposte a multipla, per cui tendenzialmente no, è un esame a libri chiusi. Allora, vediamo. Allora. Allora, dovrebbe essere risolto il problema delle slide. Perfetto, ok. Allora, intanto, mentre ci siamo, vi faccio velocemente vedere la pagina del corso, che è questa, che probabilmente avete visto tutti, perché se avete avuto il problema delle slide, direi che ve ne siete accorti. vi ho messo il link a Zoom anche qui per questo, vi metterò poi il link per le prossime video lezioni. c'è il link al workspace di Slack, che è sostanzialmente quello che vedete qua. Quindi ci sono una serie di canali a cui potete accedere, c'è il canale generale in cui ci sono domande generali, quindi oggi vi ho messo il link di Zoom. c'è un canale laboratori, in cui in realtà c'è qualche commento, ma in cui sostanzialmente focalizzeremo sulle attività di laboratorio, e un canale per le lezioni, in cui sostanzialmente vi chiedo di mettere le domande specifiche su quanto ho trattato a lezione, quindi in generale l'organizzazione generale del corso, e qui in lezioni richieste di chiarimenti specifiche sugli argomenti visti a lezione. Quindi sia durante queste lezioni interattive online, sia su quelle pre-registrate, che vi metterò a disposizione sul canale YouTube, che è quello che vedete qua. A questo punto, vi apro la seconda parte, quindi il secondo pacchetto di slide, che riguarda la visualizzazione dei dati. Anche questa parte ovviamente è registrata, ve la faccio direttamente, diciamo, dal vivo in questo momento, e verrà poi messa anche questa sul canale YouTube e sulla pagina del corso. La pagina del corso per il momento non contiene ancora i link ai video, li metterò perché qualcuno mi diceva che preferisce scaricarli piuttosto che guardarli direttamente su YouTube, perché da YouTube è difficile scaricarli. Allora, che cos'è la visualizzazione dei dati? Sì, beh, sostanzialmente... Eccola qua. Allora, che cos'è la visualizzazione dei dati? La data visualization sostanzialmente consiste nell'andare a codificare dei dati, tipicamente numerici e quantitativi, tramite delle caratteristiche visuali che permettano di trasferire delle informazioni utili. Allora, qui abbiamo una serie di aspetti interessanti, quindi abbiamo dei dati, che sono il punto di partenza che noi vogliamo andare a trasmettere, a comunicare dagli altri. C'è una parte di codifica, quindi i dati dovranno essere in qualche modo trasformati e codificati usando aspetti visuali. Che cosa sono aspetti visuali? Sono colori, forme, posizioni, dimensioni, una serie di caratteristiche che poi vedremo nel dettaglio più avanti. L'obiettivo qual è? È di andare a trasferire dell'informazione utile. Se ci pensate, la visualizzazione è soltanto un altro tipo di comunicazione che cerca di trasmettere un'informazione. E come tutte le tipi di comunicazione, la comunicazione richiede uno specifico obiettivo, che messaggio vogliamo trasferire. Dato un insieme di dati, io posso andare a fornire tanti diversi messaggi e interpretazioni. E la scelta di come codifico e di quali aspetti visuali uso permette di andare a rendere più o meno efficace questo tipo di comunicazione. Qual è il motivo per fare visualizzazione e non semplicemente andare a elencare dei numeri? Beh, il primo è la capacità di recuperare le informazioni a distanza di tempo. Ci sono alcuni studi, uno è quello citato qui, in un esperimento dopo tre giorni dalla visione di alcune informazioni, i soggetti dell'esperimento erano in grado, nel caso semplicemente di un testo puro e semplice, di recuperare in maniera corretta le informazioni contenute solo per il 10%. Nel caso in cui invece il testo fosse abbinato ad aspetti visuali, la percentuale di recupero corretto di informazioni saliva a 65%. Quindi la prima motivazione è che la visualizzazione facendo riferimento a aree diverse del nostro cervello e della nostra memoria è in grado di migliorare la capacità di recuperare le informazioni a distanza di tempo. La seconda motivazione è quella di densità delle informazioni. Se voi andate a prendere questo schermo, in realtà probabilmente voi avete anche schermi più grandi, il tipico schermo è 1024x768, quindi circa un milione di punti formano questo schermo, un milione di punti colorati possono sostanzialmente andare a codificare un milione di caratteri. Un milione di caratteri che sono circa 250 pagine, quindi un bel libro. Ovviamente non posso andare a colorare ogni punto a caso perché altrimenti sarebbe difficile leggerlo, ma riesco comunque a trasmettere molte informazioni. Un esempio giusto per intendersi. Allora, se osservate questa visualizzazione vedete che in vari casi ci sono delle nuvolette di punti, lo vediamo meglio qui in fondo dove alcuni punti sono rossi e altri sono azzurri. Bene, ogni punto rappresenta un parlamentare americano e ovviamente blu e rosso sono i due colori dei partiti principali, quindi blu sono i democratici e rosso sono i repubblicani. I punti sono tanto più connessi e tanto più vicini quanto più spesso quei due parlamentari hanno votato nello stesso modo durante la legislatura. Vedete che si parte dal 1949 e si arriva qua al 2011, quindi non ci sono gli anni più recenti. Un aspetto che si nota immediatamente è che nel passato, quindi anni 60 e 70, quindi questa parte alta, i puntini rossi e blu sono molto inframenzati, quindi troviamo puntini rossi tra quelli blu e viceversa, quindi non c'era una netta distinzione tra i voti diciamo della destra repubblicani e i voti della sinistra democratici. Passando il tempo, quindi scendendo verso il basso e andiamo a vedere anche, non so, l'ultimo, il dato del 2011, vediamo come invece il gruppo di parlamentari repubblicani e quello democratico hanno votato in maniera compatta e molto diversa dagli altri, quindi vediamo una polarizzazione significativa della politica che è quello che si osserva nella politica americana ma se ci pensate spesso anche nella politica italiana dove non abbiamo semplicemente due partiti, ne abbiamo di più ma comunque abbiamo una polarizzazione forte e è difficile avere un accordo cross partito magari su un tema che possa essere di interesse di molti. quindi qui immaginate sostanzialmente i dati che sono centinaia di parlamentari per centinaia di votazioni moltiplicati per una serie di anni quindi dal 49 fino al 2011 quindi c'è una bella quantità di informazioni terzo motivo per andare a utilizzare la visualizzazione è quello che chiamiamo il contesto in generale quando abbiamo informazioni non basta dare un singolo numero un singolo valore dobbiamo dare un numero e metterlo in un contesto che permetta di confrontarlo con altri valori se io vi dico 42 che cosa vi viene in mente? vediamo il primo che scrive sulla chat la risposta corretta allora voi avete problemi con l'audio ok allora proviamo a sospendere un attimo io provo a spostarmi in una posizione che possa essere un po' più vicino allora stavo dicendo il terzo motivo per utilizzare una visualizzazione invece di una semplice elenco dati oppure una del testo normale è quello del mettere le informazioni in un contesto se io vi dico un numero qualunque che so 42 voi potete immaginare tante cose c'è chi può immaginare i libri di Douglas Adams chi non so una temperatura o altro in generale se io vi do un semplice numero voi non sapete come interpretarlo dovete per interpretarlo metterlo in relazione a qualcos'altro e una visualizzazione è in grado in maniera molto molto semplice di andare a mettere dei punti di riferimento che quindi permettono di interpretare bene i valori ecco questo è un altro esempio di visualizzazione che è abbastanza densa quindi riprendiamo il tema della densità ma mi permette anche di andare a identificare i valori e metterli in relazione l'uno con l'altro allora che cosa riporta questa visualizzazione riporta sostanzialmente una serie di tipologie di lavori qui in basso quindi da professionisti e specialisti tecnici polizia e militari trasporti costruzione agricoltura eccetera che sono suddivisi poi ogni trattino per lavori specifici per cui ad esempio questo qui che vediamo sulla sinistra sono le infermiere registrate che cosa rappresentano questi segmenti sostanzialmente rappresentano la variazione dei numero di lavori lavori per migliaia di posti di quel tipo di professione per cui vediamo nella variazione tra il 1980 e il 2012 per cui vediamo ad esempio che il numero di infermieri è cresciuto tantissimo e la pendenza di questo segmento ci dà l'informazione quindi 20.000 e 40.000 sono tanti sono pochi da soli non ci dicono nulla ma se li mettiamo in relazione scopriamo che passare da 20.000 a 40.000 è raddoppiare il numero di posti di lavoro di quel tipo quindi è significativo ma rispetto ad altri posti di lavoro è alto o è basso? Vediamo che ci sono tantissimi lavori con numeri molto più bassi e quindi questo numero 40.000 in realtà è molto molto alto un altro aspetto interessante che riguarda la capacità di sintetizzare tanti aspetti all'interno dello stesso grafico è data dai colori i colori sono indicati in questa scala che vediamo qui al centro per cui il colore blu indica lavori prevalentemente maschili o comunque posizioni di lavoro ricoperte prevalentemente dagli uomini o posizioni di lavoro ricoperte prevalentemente da donne vediamo qua che per quanto riguarda gli infermieri è un lavoro prevalentemente femminile se andiamo a prendere la polizia è un lavoro prevalentemente maschile come i lavori che stanno qua quindi costruzione agricoltura sono tutti lavori significativamente maschili abbiamo però alcuni casi di lavori ad esempio questo che non è etichettato in cui il lavoro che era inizialmente a prevalenza maschile è diventato un lavoro a prevalenza femminile quindi è cambiato abbastanza anche la composizione di genere per chi ricopre quel tipo di lavoro quindi noi abbiamo una densità di informazione significativa e soprattutto abbiamo la capacità di andare a mettere nel contesto i numeri quindi un numero rispetto allo stesso numero di persone che fanno lo stesso lavoro nel 1980 quindi vent'anni prima e rispetto ad altri tipi di lavoro questo ci permette di interpretare facilmente quello che è l'informazione che trasmette questo grafico un po' di storia veloce veloce giusto per darvi un minimo di prospettiva su cosa è avvenuto nel tema della visualizzazione si parla di visualizzazione di dati per la prima volta in maniera strutturata e fatta in maniera consistente nel 1700 fino nel 1700 quando esce un volume di William Playfair che è l'Atlante politico commerciale che riporta una quantità enorme di dati per lo più di tipo commerciale riportati in maniera grafica per cui il grafico che vediamo qua ad esempio è un tipico grafico in cui abbiamo il tempo sull'asse delle ascisse e sulle ordinate abbiamo import ed export per cui la linea rossa che vedete qua è la linea degli export la linea beige che vedete sopra è la linea degli import se gli import stanno sopra gli export abbiamo un saldo che è contro l'Inghilterra se fosse il contrario il saldo sarebbe invece a vantaggio dell'Inghilterra questo è un esempio classico di utilizzo di un grafico a linee che noi oggi usiamo tantissimo un altro tipo di grafico è un diagramma a barre anche questo utilizzato tantissimo quindi qui abbiamo export e import rispetto a diverse nazioni quindi Irlanda Svezia Portogallo eccetera di nuovo un altro tipo di informazione che utilizza una rappresentazione nota e usata tantissimo ai giorni nostri che sono i diagrammi a barre e stiamo parlando del 1786 quindi questo è sostanzialmente uno dei primi esempi di uso strutturato consistente ed estensivo di visualizzazione dell'informazione un altro esempio notevole è questo diagramma fatto da Minard che riporta in maniera grafica l'andamento di quella che è stata la campagna di Russia di Napoleone qui abbiamo tantissime informazioni quindi abbiamo già visto che uno degli aspetti della rappresentazione grafica è la capacità di avere tante informazioni tutte messe assieme allora abbiamo innanzitutto due colori questo beige e questo nero il beige mi indica l'avanzata il nero mi indica la ritirata lo spessore lo vediamo qua lo spessore di questa linea mi indica la consistenza delle truppe per cui in partenza avevamo 422.000 soldati il ritorno l'armata è ridotta a 10.000 soldati quindi anche solo confrontando questo spessore vediamo l'entità della sconfitta di Napoleone ovviamente abbiamo un andamento orizzontale dato da una serie di luoghi geografici quindi qui abbiamo città fiumi che ci indicano le posizioni qui su abbiamo Mosca e poi non sono molto ferrato nella geografia dell'est Europa ma abbiamo vari fiumi che sono stati attraversati in una direzione nell'altra un altro aspetto importante che vediamo nella parte inferiore del diagramma sono quelle che erano le temperature al momento le temperature sono riferite esclusivamente al ritorno per cui se andiamo a vedere il 24 di ottobre c'erano pioggia e meno 5 gradi e se andiamo a vedere l'andamento vediamo come qui avevamo 9 gradi 21 gradi al 14 di novembre meno 30 gradi il 6 dicembre per cui vediamo come una campagna iniziata con tantissimi uomini arrivata fino a Mosca perdendo un sacco di vedete tutte queste riduzioni sono le fine battaglie che comportano la perdita di uomini arriva a Mosca e poi c'è una ritirata che è sostanzialmente catastrofica soprattutto se andiamo a confrontare il numero di uomini partiti con quelli ritornati anche questo è un altro tipo di visualizzazione che mette tantissimi numeri all'interno di un unico diagramma cercando di rappresentare informazioni dando contesto e soprattutto rendendo il tutto memorizzabile e facilmente richiamabile altro esempio questo di fine ottocento questo è una rappresentazione grafica dell'orario dei treni da Parigi a Lione vedete che qui abbiamo le ore quindi dalle 6 di mattina mezzogiorno mezzanotte qui abbiamo in verticale le diverse stazioni quindi Paris Tonnerre Dijon Masson e Lione e vedete che le linee diagonale rappresentano i treni ad esempio qui abbiamo un treno che parte alle 7 da Parigi arriva a Tonner verso l'una prosegue e arriva a Lione dopo mezzanotte quindi di nuovo una sintesi significativa di quello che è l'orario e tantissimi treni tantissime fermate in molte stazioni ecco questo era 1800 se poi andiamo nel XX secolo ecco l'aspetto della visualizzazione è più importante vi cito tre volumi molto interessanti che potete andare a recuperare uno del 77 che si chiama e si chiama Exploratory Data Analysis di John Taki che era un statistico molto interessante perché ha definito una serie di visualizzazioni pensate per un'epoca in cui la visualizzazione tramite computer non era così comune non esistevano i terminali grafici non esisteva la possibilità di andare a disegnare facilmente quindi lì Taki ha inventato una serie di visualizzazioni che potessero essere fatte sostanzialmente a mano e con pochi calcoli dell'83 c'è The Visual Display of Quantitative Information di Edward Tufti che è un il libro che forse definisce per primo chiaramente la disciplina della visualizzazione delle informazioni e nell'85 c'è questo libro di Cleveland di Elements of Graphic Data in cui aggiunge alla struttura data da Tati una serie di evidenze empiriche con esperimenti che ci dicono come funziona la visualizzazione e soprattutto perché quali sono gli aspetti fisiologici come quali aspetti funzionano meglio di altri quindi torniamo alla nostra domanda che cos'è la visualizzazione delle informazioni e qui c'è un'altra definizione è l'uso di sistemi supportati dai computer interattivi che permettono la rappresentazione visuale di dati astratti per ampliare la comprensione amplify cognition in inglese quindi l'idea è di dare uno strumento che permetta anche in maniera interattiva di andare a esplorare dei dati e scoprire più di quello che è presente nel dato semplice numerico non visualizzato in generale quando parliamo di visualizzazione questo è lo schema di riferimento che utilizziamo e che utilizzeremo durante tutto il corso il punto di partenza sono i dati i dati devono essere rappresentati o codificati andando a permettere quella che è una percezione visiva qui stiamo parlando di una percezione di basso livello sostanzialmente a livello della retina o comunque inconscio una volta che abbiamo questa percezione il nostro cervello può andare a fare delle operazioni di ragionamento quantitativo ad esempio andare a confrontare due lunghezze la posizione di un punto rispetto a un altro capire chi è più in alto che è più in basso e a partire da questi confronti elementari tra vari elementi è possibile andare a svolgere un ragionamento più di alto livello quindi comprendere le informazioni andare ad individuare delle strutture delle tendenze delle eccezioni quindi se vogliamo identificare qualcosa di diverso rispetto ad altri consentendo la comprensione di quelli che sono i dati e in ultima istanza poter portare a quelle che sono delle decisioni quindi l'idea è partire dai dati e andare a permettere di comprenderli meglio per poter poi prendere decisioni o valutazioni o quindi usare quei dati in maniera propria e utile normalmente quando andiamo a fornire un messaggio quantitativo abbiamo due elementi abbiamo delle quantità che di solito esprimono delle misure l'import l'export il numero di lavori l'orario di arrivo l'orario di partenza il numero di persone sono tutte misure di solito queste misure sono correlate e vengono messe assieme a delle categorie dei gruppi che potrebbero essere delle nazioni delle specifiche stazioni dei luoghi geografici delle date e quindi noi andiamo a combinare delle pure misure con delle altri valori che sono delle categorie e questa combinazione è quello che solitamente non nel 100% dei casi ma molto spesso ci dà un messaggio quantitativo quindi scopriamo che una categoria ha un valore diverso di un altro che cosa vuol dire andare a comprendere dei dati beh ci sono tante operazioni che noi vogliamo poter fare attenzione la comprensione è un qualcosa che è guidata da noi che andiamo a definire il grafico siamo noi che diciamo qual è il compito che può essere svolto su quei dati è ovvio che se noi scegliamo di supportare un certo tipo di lavoro sui dati altri tipi di lavori magari non saranno così facili o saranno completamente impossibili quindi siamo noi che guidiamo la nostra visualizzazione e chi la legge in una specifica direzione per cui ad esempio all'interno di un insieme di misure possiamo andare a vedere quella che è la distribuzione dove sono i valori dove è la media quant'è ampia la deviazione standard qual è la deviazione rispetto a un punto di riferimento o se c'è una correlazione se abbiamo più dati probabilmente abbiamo delle correlazioni possiamo avere se mettiamo in mezzo anche delle categorie un ranking quindi vogliamo sapere qual è la categoria che sta più in alto una classifica possiamo avere delle relazioni parte tutto quindi come si decompone la percentuale di persone l'evoluzione nel tempo oppure l'evoluzione o la variazione all'interno dello spazio ognuno di questi tipi di compiti attività di compressione dei dati possono essere svolti in maniera ideale andando a scegliere opportunamente tutta quella serie di passaggi dalla codifica che guida la percezione del visuale a aspetti che guidano poi la valutazione quantitativa aspetti che ci permettono di identificare aspetti di alto livello di informazione per guidare nel svolgere uno di questi particolari compiti per fare la visualizzazione normalmente andiamo a utilizzare due strumenti fondamentali tabelle e grafici di solito le tabelle non vengono contate come forma di visualizzazione ma se ben ci pensate sono uno strumento che permette di mettere assieme tanti dati in una struttura abbastanza ordinata e che quindi consente di trasmettere un'informazione e poi come andiamo a disporre le righe e le colonne come andiamo a evidenziare alcuni aspetti ecco questo è importante e quindi ci può consentire di trasmettere un'informazione e poi abbiamo ovviamente i grafici quali sono i momenti in cui è opportuno utilizzare delle tabelle piuttosto che i grafici non è detto che un grafico sia sempre la risposta ideale alcune volte è più utile avere una tabella in particolare quando abbiamo le tabelle organizzate in righe e colonne la codifica che noi abbiamo dei dati è una codifica puramente testuale quindi avremo dei numeri o delle lette qual è il grosso vantaggio di una tabella è che è facile andare a cercare i valori quindi io posso andare a trovare un valore specifico soprattutto oltre a fare la ricerca posso andare a vedere esattamente un valore preciso per cui se voi avete una diagramma a barre la lunghezza della barre voi la riuscite a stimare ma il valore preciso è difficile che riuscite a leggerlo a meno che non sia scritto esplicitamente mentre invece se avete una tabella il valore è lì pronto per cui se io devo fare una ricerca cosa che magari è difficile in un grafico se ho bisogno di andare a riportare dei valori precisi oppure se ho diverse unità di misura contemporaneamente che in un grafico sarebbe difficile andare a mescolare ecco in questo caso è opportuno utilizzare una tabella attenzione non è che uso una tabella in alternativa a un grafico posso utilizzarli entrambi nel grafico do una sintesi dei dati nella tabella do il dettaglio dipende sempre da che cosa voglio fare che messaggio voglio trasmettere quali sono le caratteristiche fondamentali dei grafici beh hanno degli assi hanno degli oggetti visuali e sostanzialmente ci permettono di andare a dare una visualizzazione complessiva di quello che è l'insieme di dati che stiamo cercando di andare a rappresentare quella che si chiama una visione olistica allora è inutile andare a fare un riepilogo adesso vorrei andare a presentarvi alcuni esempi di grafici in generale i grafici possono essere buoni o pessimi esattamente come del testo io posso scrivere bene posso avere un libro un testo un articolo facile da leggere comunica bene le idee che è efficace preciso chiaro eccetera oppure posso avere qualcosa che è scritto malissimo difficile da comprendere oscuro ambiguo ecco tutte queste serie di aggettivi positivi e negativi io li posso applicare alla scrittura esattamente come li posso applicare a una visualizzazione per cui alcuni esempi questo è un diagramma a barre cosa ne pensate? vi piace non vi piace? avete dei dubbi? ok abbiamo un'espressione bruttissimo concordo è pessimo poco comprensibile giusto vi faccio una una veloce analisi esattamente rende difficile leggere i valori ma perché? perché ci sono allora è una sintesi di aspetti decisamente negativi più è difficile comprendere un grafico peggio abbiamo lavorato un grafico dovrebbe essere facile da comprendere manca il contesto è vero nel senso che non c'è un titolo non si vedono le colonne direi che più o meno avete identificato gli aspetti principali non ci sono le etichette sugli assi allora innanzitutto le barre in tre dimensioni sono impossibili da leggere perché non sappiamo bene dove fare riferimento in generale la raccomandazione è mai usare grafici in tre dimensioni ok questa è una delle regole fondamentali ci sono alcuni casi molto molto rari in cui io uso un diagramma in tre dimensioni quando ad esempio voglio andare a visualizzare una superficie e voglio andare a visualizzare i rialzamenti i massimi minimi eccetera ma se ci pensate qual è una visualizzazione antichissima che mostra superfici con massimi minimi eccetera sono le carte geografiche le carte geografiche sono in tre dimensioni no si possono fare in tre dimensioni ci sono quelle a rilievo che sono anche divertenti da vedere ma normalmente sono in due dimensioni le vediamo dall'alto poi ci sono le ombreggiature sì ma sostanzialmente sono attività sono delle rappresentazioni bidimensionali ecco in generale la terza dimensione è un qualcosa che bisogna sempre evitare le linee guida che potrebbero essere utili per andare a capire l'altezza delle barre spesso distraggono quindi quelle griglie di fianco non sono dati sono dei supporti e i supporti dovrebbero essere il più possibile invisibili le entichette verticali sono molto difficili da leggere bisogna girare il collo per cui dopo un po' ci viene la cervicale e altra osservazione molto più specifica se andate a vedere gli anni FY non sta per financial year di solito vanno in senso contrario quindi l'anno più remoto è questo e viene verso l'anno più recente che è questo qua il 95 altro esempio anche qui c'è qualcosa che non va cos'è che non vi torna è infatti la proporzione 47 contro 52 non è non è quello che sembra manca anche il contesto sicuramente ma l'aspetto più evidente è la sproporzione inoltre se vedete qua c'è questo spessore quindi questa non è un diagramma torta è la rappresentazione di una torta per cui sì sembra 75 25 perché in realtà è disegnato male ma in più la prospettiva ci complica la percezione quindi di nuovo la terza dimensione è un qualcosa che di solito complica la vita piuttosto che semplificarla poi per carità è bello artistico però noi dovremmo trasmettere delle informazioni che siano il più fedele possibile a quelle originali altro esempio questo è quello che io ogni tanto chiamo un diagramma arcobaleno perché abbiamo tantissimi colori qual è il problema qua il problema è che se noi andiamo a prendere che so la Colombia qui a cosa corrisponde a questo verde probabilmente a quest'altro è molto difficile in generale il nostro occhio continua a fare avanti indietro tra la leggenda e il diagramma un altro problema che è un problema comune di tutti i diagrammi a torta è che quando io ho due fette della torta è difficile soprattutto se hanno dimensioni abbastanza simili andarle a confrontare capire chi è più grande dell'altro e quindi non è una rappresentazione ideale questo potrebbe essere un redesign utilizzando un diagramma bare dove è evidente le proporzioni dei vari paesi e poi ci sono problemi che riguardano non tanto la rappresentazione anche qui una rappresentazione 3D con uno sfondo che varia e quindi ha dei grossi problemi ma piuttosto i dati Windows 2000 sì il numero è più grande degli altri ma non c'entra nulla sembra che Windows 2000 sia molto meglio di Windows 10 magari è vero ma non con queste proporzioni quindi in generale ricordatevi che sì è importante andare a usare la rappresentazione corretta ma devo partire da dei dati che abbiano qualche senso se metto assieme dati che non sono confrontabili è difficile metterli poi nello stesso grafico e questo invece è un esempio interessante di visualizzazione che io direi positiva allora qui stiamo parlando del 2016 della morte di David Bowie e ognuna di queste singole righe rappresenta il numero di volte che quella specifica canzone è stata ascoltata su Spotify vedete che sì c'è un certo ascolto delle canzoni di David Bowie ma dal momento in cui è stata annunciata la morte c'è stato con qualche minuto di ritardo un salto incredibile del numero di ascolti di quelle canzoni e ovviamente la canzone più ascoltata è Heroes Let's Dance Life on Mars Lazarus Space Oddity eccetera 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 quindi vediamo come c'è stato un picco poi c'è stato un calo vedete qui intorno alle sei di mattina quindi qui c'era qualcuno di notte che se li ascoltava a quest'ora probabilmente si preparava per andare a lavorare poi andando al lavoro la di nuovo ascoltate è molto interessante perché ci dà un'idea di quanto ci sia stato un aumento di ascolti quali sono le canzoni più ascoltate adesso questo non è interattivo ma se voi andate sul link che è riportato qua sotto la visualizzazione interattiva quindi se andate su uno di queste etichette viene visualizzata tutta la linea e quindi vedete sostanzialmente l'andamento allora questa più alta è facile queste più sotto sono un po' più complicate da vedere però andando sopra viene visualizzata l'andamento nel tempo del numero di ascolti di queste canzoni altra visualizzazione molto interessante è questa che sintetizza sostanzialmente due informazioni molto importanti da un punto di vista economico questo riguarda il Brasile abbiamo due informazioni qui abbiamo il prodotto interno lordo in verticale invece abbiamo un altro indice che si chiama l'indice di Gini non so se qualcuno di voi ha già sentito parlare dell'indice di Gini è un indice che sostanzialmente cerca di sintetizzare con un unico numero quelle che sono le livelli di disuguaglianza all'interno di una popolazione per cui Gini più alti come qui significano molte più disuguaglianze Gini più bassi come qua sotto vuol dire meno disuguaglianze nella popolazione qual è il messaggio che viene dato qua sostanzialmente che i vari tratti che rappresentano diverse presidenti nella storia del Brasile hanno portato sostanzialmente un aumento qui lo vediamo abbastanza del prodotto interno lordo perché c'è stato uno sviluppo significativo ma anche in alcuni casi una salita significativa del livello di disuguaglianza c'è stato invece qua diciamo nel periodo di Lula un costante aumento del prodotto interno lordo e una significativa riduzione del livello di disuguaglianza quindi abbiamo aspetti molto diversi il prodotto interno lordo il livello di disuguaglianza gli anni perché qui abbiamo tanti anni quindi partiamo dal 1981 arriviamo qui sotto al 2010 diversi presidenti e abbiamo tutte queste informazioni quindi di nuovo molto sintetico alcune informazioni chiare e il messaggio è chiaro come negli ultimi anni diciamo che a partire dal 95 tendenzialmente c'è stata una crescita continua mentre prima era abbastanza lenta e con disuguaglianza allenante c'è stata una crescita che ha portato a un incremento del prodotto interno lordo e a una diminuzione della disuguaglianza aspetti che sono tutti ovviamente molto positivi altro tipo di visualizzazione questa abbiamo negli anni la percentuale della popolazione che vive in assoluta povertà vediamo come diciamo nel 1820 le persone che vivevano con meno di 2 dollari al giorno erano circa il 94% questo numero di persone è calato significativamente arrivando negli anni 70 al 60% questa è una serie di dati con una sorgente questa sotto è un'altra serie di dati di nuovo analoga all'altra anche se non esattamente la stessa che di nuovo indica come il calo sia stato significativo per cui diciamo nel 2015 la percentuale di popolazione che vive sotto la soglia della povertà è intorno comunque leggermente meno del 10% infine chiudo con una visualizzazione fatta da Hans Rosling un esperto di salute pubblica e statistica purtroppo morto nel 2017 che cerca di sintetizzare l'andamento nel tempo di una serie di informazioni che riguardano il reddito e le aspettative di vita non lo faccio partire ve lo lascio come diciamo ultima attività da fare alla fine di questa lezione quindi il link è questo ve lo copio poi direttamente nella chat così lo potete guardare vi lascio questa visualizzazione e alcuni aspetti molto interessanti direi che io a questo punto per oggi chiuderei qua vi invito a registrarvi al sul workspace slack in modo che poi possiamo avere interazioni quindi quello è il posto dove potete fare domande durante qualunque momento della giornata e aspettare insomma con un po' di ritardo qualche risposta vi potete poi guardare questo video vi metterò il link c'è anche nelle slide che potete scaricare dalla pagina del corso e poi appena finita la lezione scaricherò il video di quanto state vedendo ora e lo metterò su youtube quindi se volete poi rivederlo o per chi non ha seguito direttamente questa lezione dal vivo potrà averlo a disposizione la prossima lezione sarà giovedì io cercherò di caicarvi in anticipo alcune video lezioni sugli argomenti successivi quindi giovedì il mio obiettivo sarebbe non spendere tutte le tre ore previste nell'orario a farvi una lezione ma piuttosto andare a riepilogare quelli che sono gli aspetti più importanti delle lezioni che vi avrò messo a disposizione prima e essere disposto poi a rispondere a vostre domande osservazioni ed eventualmente proporvi qualche piccolo esercizio da svolgere poi assieme direi che a questo punto terminiamo la lezione e direi per i prossimi minuti io sono ancora qua a disposizione per rispondere a vostre domande o richieste che vogliate farmi in chat così chiariamo un po' di cose per tutti allora domanda meglio lo sfondo bianco o lo sfondo nero in questo caso c'è la risposta tipica del buon ingegnere che sarebbe chi è il primo che me la scrive correttamente ottimo dipende normalmente il fattore che lega la scelta dello sfondo è la luce che c'è nell'ambiente l'idea è di evitare di avere un distacco troppo forte tra lo sfondo del lucido e l'ambiente circostante per cui se vi ritrovate in un ambiente luminoso e avete uno sfondo scuro c'è un distacco significativo e quindi è più difficile da vedere personalmente mi piacciono tantissimo gli sfondi scuri purtroppo normalmente mi ritrovo a fare lezione in aule che sono abbastanza luminose e quindi non lo posso utilizzare se invece pensate di fare una visualizzazione in un ambiente tendenzialmente scuro allora lì sì va benissimo avere uno sfondo scuro e quindi il testo bianco se usate anche una visualizzazione online e decidete di utilizzare un tema scuro o notturno avete ovviamente facilità nello scegliere voi quello che preferite questi questi lucidi che vediamo assieme sono pensati per essere proiettati in aula e quindi sono stati fatti con tutti con lo sfondo bianco chiaro che è adatto a un ambiente abbastanza luminoso allora altre domande allora giovedì conto di mettervi un altro paio di lezioni comunque le metto entro mercoledì e vi avviso via mail o via sms su quello che verrà messo a disposizione dipende un attimo dal tempo che ho perché capite che c'è un po' di complicazioni con queste nuove modalità quindi comunque entro mercoledì vi pubblico le lezioni e vi avviso in modo che poi per giovedì pomeriggio abbiate avuto il tempo di guardarle allora sì la confermo che questa è stata una lezione teorica non sono riuscito a registrare la prima se no ve l'avrei messa online tendenzialmente è come la prima parte quindi io prendo le slide vi riepilogo i punti fondamentali quindi dedicherò 15-20 minuti a seconda del tema a riepilogarvi i punti salienti delle lezioni che vi ho messo a disposizione prima dopodiché ci sarà un ripasso consulenza eventualmente vi posso proporre un piccolo esercizio da svolgere assieme con calma in cui magari c'è un po' di interazione i laboratori verranno svolti a casa finché non avremo possibilità di accedere ai laboratori fisici li svolgerete a casa per i primi laboratori che comunque inizieranno dalla terza settimana quindi il 26 giovedì 26 ragionevolmente ci sarà il primo laboratorio per il primo laboratorio sarà sufficiente utilizzare Excel quindi basta avere un foglio elettronico a casa e sostanzialmente avete tutto quello che vi serve le video lezioni degli anni scorsi sono disponibili vi faccio vedere semplicemente sulla pagina del corso dove le trovate allora questa è la pagina del corso qui sotto ci sono le informazioni rispetto agli anni precedenti quindi questo è il corso dell'anno scorso in cui trovate le video lezioni le slide e tutto quello che c'è tenete presente che le slide cambiano un pochettino di anno in anno non ci sono grosse variazioni però un po' di cambiamenti ci sono se volete avere un'occhiata un'anteprima in anticipo potete guardare quelle dell'anno passato sappiate che poi quelle che effettivamente utilizzerò potranno essere leggermente diverse in ogni caso quando vi pubblico la video lezione pubblico anche le slide che ho utilizzate quindi avrete tutte e due a disposizione le parti in diretta saranno sempre registrate poi messe assieme a tutto il resto quindi chi non c'è chi vuole rivedere se è perso qualche dettaglio può sicuramente andare a rivederle con calma ok ancora qualche minuto se vi viene in mente qualcosa scrivetemi pure io sono ancora qua se vi viene in mente comunque qualcosa potete tranquillamente usare Slack su General e fare domande vi lascio il link ve lo metto subito c'è sulle slide ma ve lo metto qua eccolo qua qui c'è il link per il video che potete andare a vedere su YouTube è un video breve però è interessante ed è insomma quello che è il top della visualizzazione allora non ho aggiornato la guida è vero per quanto riguarda i libri chiusi non ho aggiornato la guida quindi in realtà è a libri chiusi avete a disposizione alcuni link da cui potete prendere le informazioni ma non avete la possibilità di utilizzare voi appunti o altre cose allora va bene mi fa piacere che abbia funzionato vediamo anche allora io questa l'ho fatta una via di mezzo tra un riepilogo e una lezione la prossima vorrei farla un po' più sintetica quindi chiedo la vostra collaborazione nel guardare le video lezioni precedenti io cerco di essere sintetico quindi avere delle lezioni brevi da una trentina di minuti non di più perché poi possono essere pesanti quelle che io registro autonomamente sono molto più sintetiche se voi fate il confronto tra quelle che sono videoregistrate e quelle degli anni passati registrate in aula quelle videoregistrate tranquillamente alla scrivania sono molto più sintetiche però tanto sono pensate per essere guardate da voi a casa quindi vi fermate ve le riguardate qui è un po' più interattivo in aula ancora molto più interattivo quindi i tempi si dilatano allora su Slack voi potete ricevere potete voi impostare le notifiche se volete c'è anche una app per smartphone sia iOS che Android per Slack in cui voi vi registrate quindi vi arriva la notifica direttamente sul cellulare quando arriva una risposta o altro quindi potete impostarle quindi avere le notifiche voi da web in qualche modo ad esempio via mail oppure usare la app e a quel punto potete ricevere direttamente le notifiche immediate io vi confermo che tendenzialmente tra l'altro questa modalità con Zoom andrà avanti per le prossime almeno un paio di settimane tenderei a non tornare alla virtual classroom del portale finché non ci sono garanzie che funzioni bene e non ci siano interruzioni quindi vedremo nel futuro però direi che sia la lezione che ho fatto questa mattina che ho trasferito dal portale a Zoom sia questa mi sembra che sia andata avanti abbastanza bene senza particolari intoppi a parte qualche problema prima di rete ma probabilmente dovuto a parte mia perché la rete andava non era stabile però direi che possiamo considerarlo un preferite le slide a pagina singola vi posso mettere anche le slide a pagina singola sì non è un problema non è un problema non è un problema non è un problema